Oggi cari ragazzi vi do ben quattro motivi principali per cui non potrete più fare a meno di questo meraviglioso concime alle alghe ma sono convinto che il prodotto si convince da solo uno che cosa fa questo concime aumenta in modo esponenziale la parte vegetativa esterna della pianta la nutre chiaramente se io ho un apparato vegetativo più grande ci sarà molta più sintesi colorofiliana e avrò anche un raccolto maggiore perché ci saranno più frutti o più ortaggi ma non finisce qui l'azione benefica oltre a far aumentare la parte vegetativa va a migliorare se dato per via radicale anche l'accrescimento delle radici avremo su una pianta su un ortaggio radici molto più grandi e vigorose e che cosa fa la radice nella pianta è la bocca ecco se io ho una bocca che mangia di più e invia più elementi nutritivi a tutta la parte vegetativa esterna il raccolto sicuramente migliora e la pezzatura dei frutti o degli ortaggi sarà chiaramente più grande più dolce e più succosa inoltre le proprietà benefiche delle alghe che contiene questo concime poi le vediamo tutte non vi preoccupate che cosa fa fa aumentare anche l'allegagione dei fiori ecco è importante sull'olivo e sulla vite se io ho più allegagione avrò più raccolto e addirittura fa diminuire la cascola ecco sugli agrumi quelle cascole sui cachi insomma adesso approfondiamo perché è uno spettacolo ma dulcis in fondo questa è la quarta motivazione per cui vi consiglio questo concime fogliare o radicale rispetto agli altri che ci sono in giro un po sugli scaffali fa migliorare l'assorbimento di tutte le sostanze nutritive presenti nel terreno oltre a quelle che stiamo distribuendo con questo prodotto quindi ortaggi davvero molto più saporiti e gustosi ma vi ho messo appositamente l'innaffiatoio e l'elettropompa per farvi capire che questo prodotto qua quindi con un unico prodotto possiamo fare trattamenti sia per via fogliare con l'elettropompa e gli spruzzatori quello che abbiamo anche in casa o per via radicale annaffiandoci co e le piante quindi unico prodotto abbiamo risolto tutti i problemi vediamo subito cosa è è un concime biologico ragazzi residuo zero è una miscela di tre aghe le stiamo vedendo qua qui c'è tutta l'etichetta che poi vi potete leggere anzi vi metto subito la scheda di questo prodotto in modo che qualsiasi cosa mi scordo a dire ce l'avete subito vi sta passando qui in alto e ce l'avete anche nel box informazioni queste tre alghe sono addirittura utilizzate per alimentazione umana o alimentazione degli animali quindi figuriamoci quanto è buono questo prodotto qua e è stratta freddo perché deve lasciare integre tutte le proprietà di queste alghe sì Pier Giorgio sì vabbè mi hai quasi convinto però voglio anche sapere dove lo posso utilizzare beh ti dico subito che può essere utilizzato sempre e dappertutto ad esempio i semenzai i trapianti le semine posso utilizzarlo durante l'accrescimento della piantina durante l'allegagione durante l'accrescimento dei frutti insomma potete utilizzarli in qualsiasi momento dell'accrescimento o della vita della vostra pianta ortaggio frutto o fiore che sia è indifferente facciamo qualche esempio allora adesso il momento della semina c'è chi già ha iniziato chi si prepara a farlo quindi c'è chi ha già la piccola piantina che sta spuntando già chi ha le piantine perché al sud uno semina prima perché trapianta prima e ha già le piccole piantine con le due foglioline o anche già la terza o la quarta vera però già si rende conto che magari che ne so ha messo un terriccio che non era poi fertilizzato la piantina inizia un po a essere stentolita fa le foglioline gialle beh ecco questo vi risolve il problema perché potete addirittura con uno spruzzatore darlo per via fogliare quindi la la piantina prende subito gli elementi nutritivi pam parte che è una bellezza oppure potete darlo nell'innaffiatoio subito come acqua di annaffiatura invece della semplice acqua utilizzate questo prodotto perché date e quindi stimolate la crescita della piantina e l'assorbimento degli elementi nutritivi ma vi dirò di più ragazzi quando voi trattate i semenzai con questo prodotto qua avrete alla fine dopo quei 20 30 40 giorni per cui dal seme andate a trapiantare in piena terra l'ortaggio una piantina con un apparato radicale davvero molto più forte e vigoroso e la piantina un bello steletto grosso e robusto insomma fa la differenza un altro utilizzo spettacoloso è a trapianto degli ortaggi ragazzi lì c'è la differenza se invece allora facciamo così che si fa nel trapianto si prende la piantina si tira su dal platò si fa la buchetta si mette la piantina e si annaffia con l'annaffiatoio l'irrigazione per far accostare la terra al pane radicale ecco se voi utilizzate per annaffiare questo prodotto qui diluito nell'acqua sia che siano i campi intensivi che il piccolo orto fa davvero la differenza perché una volta che questo prodotto qui va vicino alla radice la piantina se lo assorbe lo mette nel circolo linfatico lo stress da trapianto è sicuramente molto molto meno ad non averlo utilizzato la piantina prima stava nel semenzaio adesso sta in piena terra quindi c'è questo cambio clima beh lui la fa partire molto prima e farà davvero invidia al vicino dell'orto posso assicurarvelo un altro ottimo esempio di utilizzo di questo prodotto è dopo quei 10-15 giorni dal trapianto perché magari noi siamo un po' ingordi vogliamo fare l'orto per primi e abbiamo fatto dei trapianti anche quando le temperature notturne non ce lo consigliavano perché fuori magari faceva un po' freddo e la piantina è lì che stenta a partire non vegeta a volte le piantine del pomodoro iniziano a fare quelle foglione bronzate beh trattamento fogliare con questo prodotto qua il trattamento fogliare va subito in circolo e la piantina PIM parte che è una bellezza il vicino di orto rimane un po' sconcertato ma com'è che a lui gli vegeta né a me no. Un altro particolare utilizzo che mi piace tanto di questo prodotto qua è nel momento dell'allegagione beh è un momento una fase fenologica così chiamata molto importante per la pianta in questo momento se c'è una carenza di elementi nutritivi che non avevamo pensato di somministrare la pianta potrebbe risentire dell'allegagione quindi della produzione pensiamo ad esempio all'olivo alla vite è un momento delicato e deciderà anche il raccolto e a volte anche le nostre speranze di fare qualche guadagno beh ragazzi in questo momento un bel trattamento per via radicale con questo concime qua aiuta moltissimo la pianta posso assicurarvelo. Ultimo consiglio dell'utilizzo di questo prodotto è sull'accrescimento dei frutti, quando voi avete il frutto i pomodori le melanzane le zucchine che stanno crescendo e chiaramente lì la pianta assorbe e vuole molti elementi nutritivi beh annaffiatura con questo prodotto e vedrete le differenze. Le dosi sono semplici ragazzi per via fogliare e per via radicale per via fogliare già è molto chiaro e scritto qua è diviso per albieri da frutto per orticole mentre per quanto riguarda la via radicale la dose è questa che vi sto scrivendo qui in alto perché sennò magari vedendo questa etichetta riuscite un po' con difficoltà a capire quanto prodotto ci va ogni litro di acqua. Gli intervalli invece vanno bene quelli che ci sono scritti qua sopra ragazzi, eccoli qua per via fogliare ogni ventigiorno per la vite, per l'olivo, per quanto riguarda chiaramente sia l'accrescimento dei frutti che l'allegagione, per quanto riguarda le orticole avete qua ogni due settimane che potete tranquillamente trattare le piante insomma e qui c'è tutto riepilogato però visto che ci siamo facciamo un trattamento facciamo questo qua facciamo il trattamento fogliare dopo la francatura vuol dire dopo la messa a dimora un bel trattamento fogliare per far partire subito la piantina faccio un trattamento fogliare con l'elettropompa faccio 10 litri di acqua che mi dice 30 ml in 10 litri quindi mi prendo il prodotto faccio un po di soluzione concentrata adesso mi misuro i 30 ml scuotete bene il flacone e lo apriamo insieme ecco guardate che bel colore scuro e marrone misuro i miei 30 ml sentite qua che profumo eccoci qua e lo vado ad inserire nell'acqua concentrata guardate come si diluisce immediatamente adesso prendo quest'acqua concentrata e la inserisco all'interno dell'elettropompa siamo pronti per fare il trattamento e termino così il video ragazzi come avete visto sempre prodotti biologici mi raccomando vi saluto così un abbraccio a tutti ciao da Pier Giorgio ciao ragazzi